Buonasera dal gruppo di artisti erbili, notato il cartello della chiesa di Santa Udeno del XII secolo, troviamo a Montaperto di Monte Miletto, frazione renomata per il grano, la treppiatura, la nititura, quello che insomma conta in queste occasioni, ma è una chiesa particolare, la vedremo nei dettagli, perché non è la prima volta che troviamo questo nome, infatti anche a Serra di Pratola c'è una chiesa con lo stesso nome e da qui parte il culto di Santa Udeno, quindi è del XII secolo, come possiamo notare è un'architettura molto vecchia, vetusta o per meglio dire, questo diciamo è l'antico salciato, questo che possiamo notare, anche se è troppo spaziamente illuminato, è il portale, con la tipa di destra sovrastante, ora faremo un giro proprio per scoprire meglio questa chiesa che veramente è un bijou, in questo caso di Montaperto ma potremmo dire di tutta Monte Miletto, come notiamo un po' di queste mura sono ancora rimaste, vediamo se riusciamo a trovare qualche cosa ancora più importante, io che notate là sopra è l'orologio, che purtroppo è fermo, quindi invochiamo insomma l'intervento immediato per fare in modo che possa scoccare l'ora giusta, questa è un'altra finestra, una fortuna che diciamo non avrebbe subito, almeno esternamente, dei danni a causa del terremoto del 1980, questa è via Santo il Sanchio, infatti si passeggia appunto questo santo qui a Montemiletto, stiamo notando tutto l'esterno della chiesa, e come vedete tutto particolare, una chiesa simile a quella della Dolorata a Varellino, infatti ha più o meno la stessa conformazione, una struttura molto piccola, e che dire insomma, veramente è un geniello di Montemiletto. Buonasera dal gruppo Divertersi qui.